BATMAN VECCHIO MIO Questo sì che è un bel dilemma, non trovi? Salverai l'amica incompetente che si è fatta rapire? Oppure l'amica incompetente che si è fatta rapire? Io andrei a vedere l'ultima sfida mortale di Eddie, sono sicuro che si è dato molto da fare E poi, vale la pena di salvare Barbara? Per metà l'ho già uccisa io Una sfida allo scalo ferroviario di Coldron Bene, Enigma, starò al gioco e vincerò Ne va della vita di Selina Spargo 5, rilevato, clienti accrendabili, un passo Per metà tutto Grazie a tutti. Non potrò neutralizzare l'esplosivo finché non avrò portato la Batmobile sull'isola. Devo andare di nuovo sul ponte per portare la Batmobile su Miyaghani Island. Ho visto uno che respirava il castigate. Britta cosa. Grazie a tutti. Mi dirigo al Mercy Bridge per seguire il veicolo del Cavaliere di Arkham. La salvezza di Miss Gordon sta a cuore a tutti noi, Sir. Buona fortuna. Dent, trama qualcosa, altrimenti perché allearsi con il pinguino? Alfred, sono sul ponte. Un attimo, Sir. Devo avvertirla che c'è una considerevole presenza di miliziani più avanti. Ricevuto. Sono riuscito ad accedere ai file ai quali Miss Gordon stava lavorando prima di essere rapita. Avrebbe trovato il punto debole dei droni, Sir. Un colpo diretto con il cannone Vulcan contro i sensori dovrebbe distruggerli in un colpo solo. Sargente, stanno abbassando il quattro legge. Arriva. Troviamo la online e prendiamo l'attacco. Testata con carica in parallelo. Capace di penetrare la corazza più spessa. Anche io ho delle sorprese, Batman. Colpito. Lo fiancheggio. Mamba preso. Mamba preso. Cavaliere, mi ricevi. Difese sfondate. Si dirige a Miyaghani Island. Un uomo, sergente. Stabilite dei posti di blocco. Prendate l'isola. Qui, Falcon 4. Droni della milizia abitati in Grand Avenue. Formazione di ronda. Passo. Batman è qui. Mandatevi un'edà. Scalzatelo. Droni colpito dal bersaglio. Cora assentata. Il bersaglio alfa ha distrutto il drone a Kingston. Dove il diavolo è andato? E' proprio lì. Grandio. Batmobile avvistata. Kingston. Bersaglio alfa fiancheggiato. Bersaglio alfa colpito. Prova a ucciderlo. Sittit. Bersaglio alfa. Ho. Bersaglio alfa. Vaguhan. L'acqua alza regge! Attaccato! Rassegnati prima o poi, perderai, è inevitabile! Il veicolo del cavaliere è uscito di strada poco più avanti. L'auto è vuota. Il cavaliere di Arkham deve aver portato Oracle altrove. Avrà lasciato qualche traccia. Devo esaminare il veicolo più da vicino. Ha sbandato in una strada vuota. Perché? A quanto pare il conducente non indossava la cintura. Devo trovare il corpo. L'auto è un progetto. Tracce di spray al pepe sul lato destro del viso del conducente Oracle probabilmente era sul sedile del passeggero e ha provocato l'incidente Furba, devo controllare la zona in cui era seduta La porta è stata divalta nello schianto Se riuscissi a ritrovarla potrei ricostruire esattamente l'accaduto Divelta di netto e cardini La portiera si è aperta prima del tutto Oracle è uscita Devo esaminare la ricostruzione Localizzare dov'è atterrata Oracle ha abbandonato il veicolo prima dell'impatto Oracle si è fermata qui Qualcuno le ha sparato Devo esaminare il punto d'impatto per trovare prove balistiche Il calibro dell'arma corrisponde a quella del cavaliere di Arkham La traiettoria e la velocità d'impatto indicano che chi ha sparato è alto quanto lui A questa distanza non poteva mancarlo Un colpo d'avvertimento Non mi tornano i conti Oracle sapeva di non poter fuggire Perché ha causato l'incidente Deve aver lasciato un indizio Non è chiamato Di 500 euro D'acquillo Lo scel non è così Deve aver avante Un bambino E' di 500 euro Esporre di 9 euro Un sole Un bambino Alli Un bambino Signor Wayne Lucius, Oracle mi ha lasciato questo scrambler sul luogo dello schianto Decifra i dati così da localizzare il cavaliere di Arkham La signorina Gordon era più adatta a queste cose Vedrò cosa posso fare, ma credo che mi ci vorrà un po' Ok, Halloween Tower, quando sei pronto Alfred, aggiornami sui ricercati di Gotham Un istante, Sir Sì, questi sono due nuovi arrivi È stata individuata una figura incappucciata su un tetto di Grand Avenue Sembra che sia accanto a un simbolo di Batman in fiamme, Sir Sarebbe opportuno stabilire se si tratti di un soggetto amico o nemico Ho anche segnalazioni di un incendio alla stazione dei pompieri di Bristol Pare che sia doloso, Sir L'elettricità è stata tagliata Disattivando il sistema antincendio Forse dovrebbe indagare Sono diretto alla Wayne Tower Se riusciamo a decifrare i protocolli di sicurezza del cavaliere di Arkham Riusciremo a rintracciarlo Se credi di potersi in affondo, Sir Sta per ricevere una brutta sorpresa Ci vorrà altro che muscoli e pallottole per entrare là dentro Dimentichi che io e Pipes abbiamo fatto qualche bel colpo Non così bello Immagina che razza di tesori nasconde il nostro amico Playboy in quelle casse forti Saremo ricchi Batman ha un blindato adesso L'abbiamo spaventato allora Versaglio alfa ammistato Settore nord Miagani Island Attaccato Rattler offline Rattler offline Droni offline Centrale c'è un ordigno della militia vicino a Grand Avenue Falco 3 chiudo Sei finito Batman ha liquidato un drone Fategliela Morti alleati Colpiti Mamba offline Mamba offline Mamba offline Drone Mamba Danneggiato Rassegnati prima o poi perderai C'è inevitabile C'è inevitabile C'è inevitabile C'è inevitabile C'è una sommossa La main tower Passo sonda gentile a farmi visita signor wayne immagino non avesse un abito per l'ingresso principale finita la decriptazione tutto decifrato ho inviato tutte le comunicazioni radio recenti della milizia e relative coordinate sul suo terminale grazie lucius cercando l'impronta vocale del cavaliere di arkham determinerò la fonte dell'ultima trasmissione identità confermata buonasera signor wayne analisi forma d'onda attiva ho aspettato abbastanza batman morirà stanotte ricerca impronta vocale nelle comunicazioni posizione verificata bene il cavaliere trasmette dalle gallerie di miagani island lieto d'essere d'aiuto signor wayne già che qui abbiamo sviluppato degli altri upgrade per la sua auto ci dica in quali aree concentrare gli sforzi a questo le piacerà lo scritto io stesso quando ho visto cosa affrontava il virus drone penetra nei sistemi d'armamento dei blindati e fa in modo che puntino le unità amiche un upgrade al generatore per armamenti permetterà di sovraccaricare l'armamento secondario della batmobile sarà un avversario demibile signore a questo le piacerà la contatterò appena sarà pronto se le dovesse servire qualcos'altro mi trova qui tutta la notte dopotutto anche volendo non saprei come lasciare la città stia attento signor wayne sono qui se ha bisogno alfred ho individuato il cavaliere nel sistema di tunnel di miagani ottima notizia ma sto rilevando una considerevole presenza di droni nell'aria sarebbe una follia attaccarli senza la batmobile ricevuto vuole che apra l'entrata sotto aspetta che arrivi lì alfred non vorrei guastare la sorpresa centrale qui falcon 4 sembra esserci un ostaggio alla wingtower molteplici aggressori due facce il pinguino non sono gli unici in ballo e come lo sai lo so perché ho sentito delle cose sono parecchie a spartirsi questa torta si incontrano tutti a gotham stanotte il cavaliere di arkham aspetta la tua moto e abbiamo un contatto nemico pesante fuori dal tunnel consiglio estrazione immediata signore e troppo rattler colpito pianchecciamento drone Ah, un drone! Il bersaglio alfa sfondato alla corazza del Diamondback! Batman ha liquidato un Rattler! Aggiornamento, protezione ingresso neutralizzata! Alfred, sono all'entrata del tunnel. Apri le porte. Un attimo, sir. Sto accedendo al mainframe di sicurezza dell'edificio. Alfred, c'è un'altra porta anti-esplosione. Dovrai aprirla. Oh cielo! Pare che mi abbiano espulso dal sistema. Devono sapere che lei si trova lì. Non preoccuparti, Alfred. Troverò un altro modo. Hai fatto qualche progresso con la cura? Ci sono quasi. Ehi, non ho notizie di Barbara da un bel po'. Sta bene? Sta bene. Sta lavorando a una cosa per me. È importante. Ma è al sicuro, vero? Niente paura, Tim. Continua a pensare alla cura. Oh! Batman! Proprio nel mio stile! Ma capisco perché non gli hai detto della reazione isterica del vecchio Jim. Certo! Se tu ti fai una cura di Barbara come fai con il tuo giovane aiutante, forse non sarebbero nemmeno riusciti a rapirla. Sono dei poveri sciagurati, Batman! Come noi due! E ora finiranno a pezzi per colpa della tua crociata. Ricapitoliamo. Barbara è stata rapita e diciamocelo, probabilmente è morta. Tu lo stai nascondendo al nostro Romeo Meraviglia e il caro vecchio Jim è andato da solo a fare l'eroe. Non è proprio la tua giornata, Batman. Qualcosa che non va? Avanti! Libera il povero Robin! Non puoi schiavizzarlo per ottenere la tua cura. E poi, se là fuori si farà ammazzare, non dovrai più dirti di Barbara. Due piccioni con una fama. Pensi davvero che possa risolvere il tuo problema di giocherite? Neanche per sogno! Sono cronico! Persistente! Sappiamo entrambi che non esiste una cura! Ricordi quando tutto era più semplice? Quando c'eravamo solo noi due? In una normale guerra contro il crimine? Guardati intorno, Batman. Le cose cambiano. Ormai siamo alla guerra totale. E tu ci sei dritto in... E come in tutte le guerre, ci sono delle vittime. È inevitabile. Ineluttabile. Come la morte. Beh, forse la morte no. Quella che... ...di averla scansata. Certo, non tutti abbiamo questa fortuna. Ricordi Italia? Certo che sì. Non si dimentica una pupa del genere. È bastato un pezzo di piombo per spegnere i tuoi sogni per un finale da fiaba. Mi hai addossato la colpa, ovvio. Ma avevi torto. Me l'hai messa tu nel mirino, Batman. Certo, lei ha fatto poco per salvarsi, ma era colpa tua. Vedi, la gente si fida di te. Loro credono in te. Ti seguono nella tua guerra e tu... ...li fai ammazzare... ...tutti! Dillo dall'odello, detective. Vedo che hai iniziato a usare la tua mente mediocre per risolvere i miei indovinelli. Ho avuto molto tempo per studiarli, Batman. Dopo che mi hai lasciato sconfitto e umiliato ad Arkham City. Sono l'enigmista, Batman. Non subisco l'umiliazione. La ripago. Risolvimi e indovinelli se ci riesci. Ci riesci. Ti serviranno più avanti. No. 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 E quanto tempo sei qui sotto? Una settimana. Ma io sono qui da un mese. Un mese? In questo tunnel schifoso pieno di ratti. Sono stato in posti peggiori. Davvero? Ho lavorato sotto copertura a pegnaduro fin quando la squadra d'assalto ha battuto le mure esterne. Almeno stanotte ci rendiamo. Dove le ha prese tutte queste cose? Ha rapinato una base militare? Enrico, questa roba deve essere cara. Sono tutti pezzi unici, progettati per sconfiggere Batman. Ma non capisco, è un solo uomo. Tu c'è del brinfield, no? No, me lo sono perso. Ma io c'ero. E' bravo, è molto bravo. Fa un esercito per abbattere un solo uomo. Sarà una passeggiata. L'idea è quella. Preferisco avere troppe armi che non abbastanza. Ehi Batman, vedi questi tipi? Credono che Gotham sia loro. Che cosa pensi di fare? Oh no, no, no. Non vai da nessuna parla, vecchio. Corazza a triplo trama in titania. Bella. A meno di sapere esattamente dove sparare. Sei bravo, Cavaliere Oscuro. Migliore di quanto ricordassi. Ucciderti sarà una soddisfazione ancora maggiore. Ma non temere per Barbara. Avrò a cura di lei più di quanto tu avrei fatto. Batman è nella sala di controllo. Fatemi vedere che succede a chi tocca la mia città. Di qui non puoi passare. Siamo tu e nio, mostro. E' Batman! No! Non mi fai nulla! 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 Stai un'altra! C'è prima di chi. Anche un'altra! Non mi fai nulla! Non mi fai nulla! Non mi fai nulla! Non mi fai nulla! Amo il suono dei peschi schianzati! Pagliattili bene! Oh, quello non ti conosce bene, vero? Crede di averti intrappolato qui! Ma che razza di futuro supercriminale può pensare che una porta e qualche blindato bastino fermare Batman? Dio! Diamondback colpito non reggerà altri colpi! Diamondback ha battuto Cash, ho neutralizzato i droni del Cavaliere di Arkham I tuoi uomini possono tornare a pattugliare mia Ghani Island Devo salvare Oracle e farla pagare al Cavaliere di Arkham Vedo che è di nuovo in auto, signorino Vado a cercare il Cavaliere, è qui nei tunnel Allora speriamo che abbia Miss Gordon con sé La nazione è qui, aprite la porta, aprite la porta Sir, lo scanner termico della Batmobile rileva un solo corpo Ed è il conducente, nessuna traccia di Miss Gordon Lui sa dove posso trovarlo, non mi sfuggirà Che ci facciamo qui? Fermalo Si avvicina, sbattetelo fuori strada Fuoco Sotto fuoco basante Si avvicina, sbattetelo fuori strada Fuoco Colmetto Sono sotto fuoco di micro Prepararsi Si avvicina, sbattetelo fuori strada Aprile il fuoco Niente paura, signore È mio Fermerò quel figlio di puttana Mattetelo fuori strada No, no, qualcuno lo fermi Sotto fuoco basante È blindato, forno c'è l'altro ai colpi Colmetto Blindato abbattuto Ripeto, blindato abbattuto Tutte le unità di supporto ripiegare Il conducente non è il cavaliere di Arkham Ma saprà dove possa trovarlo Come ci si sente? A inseguire l'uomo sbagliato Dov'è il cavaliere di Arkham? Non lo troverai Credevi di sorprendermi triangolando il mio punto di trasmissione? Impara la lezione, Batman So come pensi Perciò sui batterti Dove si trova? Con Barbara Gordon Ora è nostra Pensa a che cosa le potrà fare il cavaliere Che stai facendo? No, non puoi farlo Dove si trova? È andato dal piccoletto Il pinguino È stato lui a fornire i rifugi per l'attacco Il cavaliere lo ripagherà per i suoi servizi È tutto qui Io non so altro Alfredo, no! Oddio, no! Ti viene in mente altro? Usa una società di refrigerazione come copertura I camion consegnano armi in tutta la città Come si chiama? North North Refrigeration Grazie Alfred Ho bisogno che tu scopra tutto il possibile sulla North Refrigeration Ma certo Posso chiederle perché? Il pinguino arma il cavaliere di Arkham È al momento È la pista migliore per trovare Barbara Indago immediatamente, sir Vedo che il signor Fox cerca di comunicare Lucius Signor Wayne Il nuovo upgrade della Batmobile è pronto per l'uso Il Batwing è in arrivo a Grand Avenue Allora Il 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 Grazie a tutti.